Oggi vi propongo un primo piatto cremosissimo e velocissimo da preparare, ideale per pranzi e ceni in compagnia veloci. Quindi, quando volete preparare qualcosa di veloce e buono, preparate la pasta ricotta e limone. Ho arricchito la pasta con le mandorle tostate, che aggiungono sapore e sostanza. Provatela perché è una vera e propria delizia. Ho utilizzato 30 g di mandorle, però se volete potete utilizzare anche 40-50 g di mandorle. Le mandorle le tostate o in forno a 180 gradi per circa 5 minuti, oppure in padella con un coperchio a fiamma bassissima sempre per 5 minuti. Prendete una ciotola, versate 250 g di ricotta. Io utilizzo la classica ricotta da banco frigo. Versate le mandorle tostate che avete tagliato, 25 g di parmigiano grattugiato, una presa di sale e pepe nero macinato. Poi vado a grattugiare anche la buccia di un limone. Mi raccomando, un limone tipile con buccia biologica. E ragazzi, potete mettere un po' di acqua di cottura, proprio pochissima, senza esagerare, giusto per rendere più cremosa la nostra ricotta. E che dirvi, come avete visto, in pochissimo tempo il nostro condimento è pronto. Dobbiamo aspettare solo che la pasta arriva a cottura ultimata e la versiamo all'interno della ciotola. Io ho utilizzato una pasta a formato corto, però con questa tipologia di condimento potete utilizzare anche la pasta a formato lungo, tipo gli spaghetti. Un primo piatto cremoso e sfizioso, ragazzi. È un primo piatto veramente facilissimo da preparare, semplicissimo, ma davvero saporito. Provatelo perché è una vera e propria delizia. Quando impiettate la vostra pasta con la ricotta, potete grattugiare il limone, un poco di limone sopra la vostra pasta e proprio un pizzico di pepe nero macinato, per arricchire di più il sapore della vostra pasta. Che dirvi, ragazzi? Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia. Iscrivetevi e attivate la campanella, perché se attivate la campanella, ogni volta che pubblico un video, vi arriva subito la notifica. E quindi non perderete più neanche una videoricetta super golosa. Vi aspetto anche su Facebook, su Instagram oppure su TikTok, sempre come Ricette Golose di Cartesia. Su Facebook, mi raccomando, cercate la pagina Facebook e mettete il segui. Che dirvi? Vi mando un bacione grande, grande. Aspetto come sempre i vostri commenti. Vi ringrazio perché siete sempre molto gentili con me. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!